Cosa ha di diverso una banca costruita intorno a te? È una banca che ti sta vicina sempre. È costruita intorno ai nostri bisogni. Che è poi lo slogan, però è vero. L'app la uso quotidianamente. La mia family banker che mi assiste 24 ore al giorno. Conto gratuito, posso prelevare senza costi. E i miei soldi sono insomma al sicuro e mi rendono anche. It's a personal experience. Esigenze diverse, un'unica banca. Mediolanum, fra i principali gruppi bancari, è il primo in Italia per solidità e fra i primi in Europa. Apri il tuo conto, anche così. Banca Mediolanum, costruita intorno a te.